Ehhh... Cara... 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 Car... Caru... Caru... Cara... Carua... Carua... Cara... Come si dice? Sei gay? Sei lesbica? Sei frocio? Sei fluido? Sei LGBT? LGBTQI? LGBTQIA? LGBT... Ma che cos'è? Uno scioglilingua dell'elementare! Ma tu guarda che stronza! Ecco una omofoba femminista, componente di una ipocrita società eterosessista, che simula di educare alla uguaglianza, appioppando etichette. Tu hai mai visto cortei di eterosessuali con cartelli con il triangolino? ee... oi... 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 Grazie a tutti.